Cate Pacific, le linee aeree di Hong Kong, che da Hong Kong portano in tutta l'Asia e l'Oceania, vede al 2012 come l'anno della responsabilità. Responsabilità anche nei confronti della moda italiana, nel portare appunto nel mondo l'eccellenza che ci contraddistingue nel design e nella moda. Cosa facciamo per gli imprenditori? Prima di tutto abbiamo dei desk dedicati, dove gli imprenditori possono rivolgersi con grandissima disponibilità, sia in termini di email dedicati, numeri telefonici dedicati per tagliare ogni minuto di attesa, con delle tariffe aeree assolutamente personalizzate per le loro necessità in base al loro numero di viaggio, alle destinazioni e poi anche tanto nel promuovere i loro servizi per far conoscere anche le eccellenze che in Italia ci sono e molto spesso sono date per scontate. In quest'ottica il premio China Trader Award, che Cate Pacific ormai sponsorizza e promuove da nove anni, che è rivolto proprio agli imprenditori italiani che operano con Hong Kong e con la Cina e vogliono far conoscere anche al resto dell'Italia e anche del mondo l'eccellenza del loro lavoro. Quest'anno i temi saranno la creatività, il dinamismo, il know-how e anche l'innovazione e quindi una voce in più per dare opportunità a queste imprese nell'anno del dragone. Dal punto di vista passeggeri ovviamente grandissima attenzione per gli imprenditori, anche dal punto di vista cargo, dove Cate Pacific, prima compagnia aerea in termini cargo, a parte ovviamente i vettori cosiddetti integrator e i cosiddetti courier. Abbiamo ovviamente un servizio molto personalizzato con i contenitori per i capi appesi, ma soprattutto questa tipologia di merce, se così si può chiamare, viene trattata veramente con i guanti bianchi, quindi con tutta una serie di procedure e accorgimenti per conservarne e preservarne l'integrità praticamente dal punto di vista della filiera del trasporto proprio dall'origine, la destinazione finale. Con il volo da Milano iniziato nel 2010, Milano e Hong Kong si pongono veramente come due città, tre in sette anche per la moda e per il design, quindi sempre più asiatici vengono a Milano soltanto per mangiare in buoni ristoranti e per apprezzare la moda italiana, ma ovviamente c'è anche molta moda che corre su internet. L'anno scorso, nell'edizione precedente del China Trader Award, è stata premiata Yux, che infatti sta avendo un grandissimo sviluppo in Cina per le vendite internet. Chiaramente questo corroborato anche dal fatto che in Cina si sta sviluppando il fenomeno delle carte di credito o di debito, come dir si voglia, e quindi anche per loro è possibile acquistare questi capi firmati e oggetti del desiderio in ogni momento. Grazie.